Musica Vuoi vincere una skin o dei V-Bucks gratis su Forte? Basta riscriverti attivando la campanella, lasciare like e condividere il video Più amici fare scrivere più possibilità di vincita avrai Non mancherai nelle mie live su Youtube se vuoi vincere skin, pass battaglia o V-Bucks Benvenuti a tutti in questo nuovo video In questo nuovo video andiamo a vedere un paio di leaks della skin di Deadpool E poi andiamo a fare un reepilogo di tutte le sfide di Deadpool fino ad arrivare alla settimana 8 Dove potremo sbloccare, come potete vedere da questa immagine, lo stile senza maschera proprio della skin di Deadpool Andiamo a vedere il leaks che oggi vi porto in questo video E possiamo andarlo a vedere qui, esattamente alla stanza di Deadpool Come potete vedere adesso la stanza di Deadpool è in questo modo Cioè Deadpool così, che sta seduto sulla carta igienica appoggiato al frigorifero Però forte, a molte persone entrando in game, entrando esattamente in questa stanza E gli è apparso di trovarsi davanti un glitch Cosa vi faceva vedere questo glitch? Questo glitch vi faceva vedere appunto tutte le animazioni della skin di Deadpool Adesso vi metto anche l'immagine Praticamente fa vedere tutta la stanza di Deadpool tutta inondata d'acqua L'animazione di Deadpool che sta vicino al tubo L'animazione di Deadpool della settimana 7 che sta appoggiata al frigorifero E poi se facciamo più grande l'immagine possiamo vedere un'altra animazione Un'animazione che sarà probabilmente quella della settimana 8 Questa animazione va a rifigurare Deadpool che gioca al computer con una maschera Con una maschera, quelle per andare sott'acqua E molto probabilmente potrebbe anche essere uno stile aggiuntivo Che venga aggiunto oltre a quello senza maschera Quindi Fortet è già, grazie a un glitch che a poche persone è capitato Fortet ha spoilerato già quale sarà la prossima animazione di Deadpool Che dovrebbe essere proprio questa che vi sto facendo vedere in questo preciso momento Quindi magari chissà potrebbe anche esserci un terzo stile di Deadpool Oltre a quello senza maschera, un terzo stile con la maschera a sub Adesso andiamo a fare un riepilogo di tutte le sfide di Deadpool Fino ad arrivare alla settimana 8 E vi farò vedere anche come completare due sfide la settimana 8 Partiamo subito con la settimana 1 Settimana 1 trova la lettera Epic Games Sfida facilissima La lettera Epic Games si trova esattamente in basso a sinistra nella stanza di Deadpool Sfida 2 non ringraziare l'autista dell'autobus Settimana 2 trova il cartone del datto di Deadpool Faccio vedere esattamente dove è Il cartone del datto di Deadpool si trova esattamente nella stanza di Deadpool a sinistra Poi invece trova i tre cimicianga di Deadpool sparsi nel quartiere generale Adesso vi lascio la clip di dove trovare i cimicianga di Deadpool nel quartiere generale Trova l'ossura VC di Deadpool settimana 3 L'ossura VC di Deadpool come potete vedere dalla clip si trova esattamente nella stanza della skin nitroglicerina Alla destra appena entriamo sul muro Poi dovremo distruggere tre gabinetti E otterremo lo spray Wade di Deadpool Tre gabinetti qualsiasi in game Settimana 4 trova le due catane di Deadpool Sfida semplicissima Prima catane troverà sullo specchio di Deadpool Seconda nel magazzino potenziamenti Come potete vedere da questa clip Seconda sfida settimana 4 Infliggere 10.000 di danni alle strutture avversarie E otterremo le catane di Deadpool Sfida settimana 5 Trova l'unicorno peluche di Deadpool L'unicorno peluche li trova esattamente nella stanza di maioscolo in basso a sinistra Come potete vedere all'immagine E visitare i ponti d'acciaio rosso, giallo, verde, blu e viola Sparsi in giro per la mappa E otterremo la schermata di caricamento di Deadpool Sfida settimana 6 Trova il pennarello nero di Deadpool Si trova esattamente nella stanza di Brutus Alla sua destra sulla scrivania E imbrattare i tre poster di reclutamento Degli spettri o delle ombre E otterremo la mimetica di Deadpool Settimana 7 Settimana 7 che ci permetterà di sbloccare la skin di Deadpool Quindi eseguite tutte le missioni che vi ho detto Se ancora non l'avete fatto E potete sbloccare la skin di Deadpool Trovando le due pistole di Deadpool Vi faccio vedere le posizioni esatte C'è anche il video sul canale La prima si troverà sotto i piedi di maioscolo La seconda nella stanza di maioscolo In basso a destra Quindi semplicissimo E infine per sbloccare Deadpool Basterà entrare in una cabina telefonica Oppure un bagno chimico come volete Per diventare l'eroe più superero del pianeta Quindi entrate nella cabina Uscite e diventerete la skin di Deadpool Settimana 8 Ve la dico in anticipo Settimana 8 dovremmo trovare la piscina galleggiante di Deadpool Quindi vi faccio vedere anche la foto di qual è la piscina galleggiante Ve la metto proprio qui Dovrebbe essere questa Non so se si troverà in game o nel quartiere generale Ma penso si trovi nel quartiere generale Mentre la seconda sfida ci dirà di ballare allo yacht di Deadpool Quindi semplicissimo Basterà andare allo yacht di Deadpool E partecipare al party Basterà andare alla pista e ballare Un qualsiasi balletto Quindi davvero semplicissimo Per completare queste sfide Se non l'avete completate quasi nessuna ci mettete pochissimo tempo Settimana 8 Se completiamo la settimana 8 Otterremo anche lo stile senza maschera di Deadpool Quindi stile anche esso molto bello Quindi dopo aver sbloccato questo stile Probabilmente nei prossimi giorni Forte si farà vedere anche le sfide settimana 9 e 10 di Deadpool E chissà che non potremo sbloccare Anche uno stile con la maschera da sub Proprio come nell'animazione della settimana 8 Quindi spero che questo video ti sia stato d'aiuto Dove vi ho fatto vedere qualche leaks della settimana 8 E un riepilogo di tutte le sfide Spero che sia stato utile A chi ancora non ha completato le sfide Oppure a chi vuole vedere l'animazione in anteprima la settimana 8 Quindi se ti è piaciuto Lascia un bel like Scriviti al canale Attivando la campanellina delle notifiche Per essere aggiornato su tutti i video E live dove ricordo a volte skin o pass battaglia Condividi il video con tutti i tuoi amici Almeno anche loro sanno tutte le sfide di Deadpool E la nuova animazione in anteprima E noi ci vediamo a un prossimo video Una prossima live Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti